Questo programma è offerto da Tecnocampus Giovedì 11 aprile, buongiorno da Teleprima Benvenuti anche oggi alla quotidiana Rassegna Stampa Come sempre offerta da Tecnocampus Anche questa mattina abbiamo pronti in prima pagina Tanti fatti, in particolare una scoperta sensazionale Ma soprattutto una fotografia che ha già fatto il giro del mondo Che è quella del buco nero Ma cominciamo subito a vedere quelli che sono i fatti in primo piano E ci spostiamo proprio sulle prime pagine dei quotidiani nazionali Questa mattina partiamo da Il Fatto Quotidiano E vediamo che nella parte alta della pagina si parla di caso Reggeni Pensate, siamo a tre anni dopo la scomparsa e la morte di questo giovane Ed è pronta la commissione parlamentare di inchiesta Voluta da Sinistra e Movimento 5 Stelle Ma la Lega la boicotta Nessuno deve disturbare Al Sisi E ancora vediamo le altre notizie in primo piano Proprio da questa pagina Caso Fadil, la Polanco e PM No, il Polonio La olgettina sentita prima dell'annuncio della morte Infatti il 15 marzo, poco prima della conferenza stampa del procuratore di Milano Marostel Polanco è stata interrogata per il Rubi 3 Alla notizia di Man deceduta Risponde con questa esclamazione No, il Polonio E questa è l'ennesima circostanza sospetta Che gira intorno a proprio a questa morte E ancora vediamo le altre notizie in primo piano Emiliano è indagato Strana la fuga di notizie Finanziamenti, ieri la perquisizione iPhone sequestrato Infatti parliamo del governatore Che è sospettato di abuso di ufficio E induzione in debita Per una vicenda legata alle primarie del PD del 2017 In cui era anche candidato E coinvolte anche il suo capo di gabinetto E lui denuncia in procura Intanto Taranto, Antimovimento 5 Stelle Di Maio, presto via l'immunità Ai vertici di Ilva Intanto nell'articolo di apertura Si parla ancora del dibattito inerente proprio al DEF Scopre infatti 73 miliardi di evasione Ma poi ne taglia 13,5 ai ministeri Nessuna notizia dal governo Sul recupero del mega serbatoio di Nero E ancora vediamo le altre notizie in primo piano L'orario di lavoro Tridico dell'Inps Più occupati lavorando meno Questa è la soluzione che vorrebbero cercare E ancora vediamo le altre informazioni Proprio che arrivano dalla prima pagina Eccoci qua dalla TV di Stato Parcondicio a modo loro Rai leghisti contro Fazio Per l'intervista a Di Maio E intanto c'è chi può e chi non può Istat, il Ciellino raccomandato Napoli via i bibliotecari Onesti ed ancora l'antifascismo Schick e snob Sui bis, bis, nipoti E ancora nella parte bassa della pagina Il processo al fatto Le elezioni di giornalismo Sul caso Brizzi Testimoni Carigliene Ma almeno Sapete leggere Questo che si domanda Selvaggia Lucarelli In questa giornata E intanto dalla Francia Biglietti d'amore in bottiglia Fino al mare di Sicilia Insomma quelle notizie Che comunque Non ti cambiano la giornata Perché ovviamente Sono piccole, semplici E ovviamente Non lasciano questi segni Intelligibili Però la realtà è che comunque Una sorta di buon umore Ce la mettono Perché sembra proprio Che la fantasia Ancora non sia morta E ancora ci spostiamo Sulle altre testate nazionali Vediamo Libero Che cosa racconta questa mattina E vediamo che ieri Si è parlato tanto Della polizia 167 anni dalla fondazione Rapporto appunto Della polizia I morti e ammazzati Sono scesi in un anno Da 105 a 89 Crollano gli omicidi in Italia E solo il 5% spara E infatti vediamo Che secondo l'attacco Di questo articolo Sempre più armi da fuoco Sempre meno omicidi I numeri sulla criminalità In Italia diffusi Da polizia e istat Dipingono infatti Una realtà Che fa sberle Con il ritornello Cantato quotidianamente Alla stragrande maggioranza Dei mezzi di informazione Ci raccontano Di un'impennata Di femminicidi Quando il numero È sostanzialmente stabile Sostengono Ci sia un rapporto diretto Tra la diffusione Di rivoltelle E crimini violenti Ma alla fine Solo 5 delitti su 100 Sono commessi Da individui Che detengono Lecitamente Una pistola in casa Per il resto Nei raptus Ci si arrangia Con quello che c'è Coltelli soprattutto Ma siccome diventa difficile Pensare di sequestrare Tutti i servizi Diposate da Siracusa A Bolzano In maniera un po' sterile Ci si concentra Appunto Su altri ferri E ancora vediamo Nell'articolo Di apertura Di questo quotidiano Il debito Della città eterna Finisce a noi Roma ladrona Ruba 12 miliardi Lo Stato Ha tagliato i fondi Ai comuni Costretti così A ridurre i servizi E ad alzare le tasse Mentre si fa carico Del disavanzo Accumulato dai politici Capitolini Liberi sempre Ovviamente Secondo quanto dice Questa testata Di sprecare E ancora vediamo Ancora gli arresti L'infermiera di Prato Merita un po' Di sana pietà Così dice Feltri Infatti dice Mi sono stufato Di scrivere Del TAV Del DEF E dello IUS Sossori Argomenti Di una noia Devastante Preferisco Occuparmi Dei fatti Della vita Come mi insegnò Guglielmo Zucconi Insigne Il giornalismo Direttore Della Domenica Del Corriere Del giorno Ai tempi remoti L'ultima notizia Che ha sconvolto L'opinione pubblica Credo sia L'infermiera di Prato Ingravidata Da un ragazzino Di 14 anni Dei quali Non faccio nomi Per senso Di pietà Pietà Per chi sbaglia Talvolta Commette reati Per debolezza O qualcosa Che somiglia A una malattia Di questa storia Libero quanto tutti i quotidiani Si è già occupato a fondo E non intendo Ruminare sul tema Ribadisco soltanto Che la donna Doveva risparmiarsi L'esperienza Che chiunque Effettivamente Non avrebbe voluto Mai vedere E ancora vediamo Le altre notizie In primo piano Va in India Però minaccia Di rientrare Stiamo parlando Di Di Battista Che secondo Quanto titolo A punto libero Giocando sulle parole Fa l'indiano E ancora il successo In tv A 70 anni Il ritorno Trionfale Della Carrà E ancora una domanda Che si pone Proprio questo quotidiano Chi lo risarcirà Ovviamente si parla Di marino innocente E di colpevole Di averlo fatto fuori E nella parte bassa Della pagina Maschi in difficoltà Donne più virtuose Ma a che cosa Ci stiamo riferendo A quanto pare Alla dieta All'alimentazione Inutile mettersi a dieta 25 milioni In sovrappeso Metà degli abitanti Della penisola Segue perennemente Un regime alimentare Snellente Ma purtroppo Con scarsi risultati Se consideriamo Che ben 25 milioni Di italiani Tra adulti E bambini Sono in sovrappeso O addirittura Obesi Ancora La frittura Fa bene Questo è quanto Riportato Dalla scienza E infatti Largo a patatine Verdure in pastella Il vostro piatto Preferito Sono le patatine fritte Ma vi hanno insegnato A diffidarne Bene E ora Di dare libero sfogo Alla libidine Di sfatare Uno dei miti più duri E morire A morire E le fritture Non solo non farebbero male Ma secondo lo studio Farebbero addirittura Bene L'importante Secondo questo studio Ma secondo La coscienza comune E che comunque Siano fatte a regola D'arte E ovviamente Seguendo dei canoni Ben precisi Insomma La scienza Molto spesso Ci fa questi regali Quando ci rifà Di prima mattina Forse sicuramente Ci lascia ancora di più Col sorriso E continuiamo a vedere Le notizie in primo piano Ci spostiamo sul giornale Governo in fuga La ritirata Nessuno mette la faccia Sul def Disastro E l'occupazione Intanto Cala Berlusconi 12 punti Per cambiare l'Europa E ancora vediamo infatti Le notizie Che vediamo Da questa prima pagina La tensione alle stelle Giallo-verdi nervosi Tra tasse Ma anche gossip E intanto La parte centrale Della pagina In una vignetta Tutta dedicata Al buco nero Che è stato fotografato E ovviamente Il binomio Viene fatto Facilmente Con il governo E intanto Le analisi L'esecutivo Dei leoni Da tastiera Zero fatti E molti selfie E il dialogo Con Salvini E Mattarella Preoccupato Cambia cavallo Nella parte centrale Della pagina Invece vediamo Una notizia Che riguarda il papà Di Di Maio Abbatte gli abusi Edilizi Gli illeciti Sono stati scoperti Dopo un'inchiesta Del giornale E questo è il caso Dei capannoni Mentre a Roma Riesplode l'ira Dei cittadini Contro i Rom E nella parte Destra della pagina L'orgoglio De venite Sussidi No grazie E infatti Secondo questa testata Proprio in Veneto Il reddito di cittadinanza Viene proprio ignorato E nella parte bassa Della pagina Il duce È tornato È mister Facebook Il vero Totalitarismo E la censura Sui social E ovviamente Anche da questo Spunto Partiremo Proprio Per andare a vedere Le notizie In primo piano Nella giornata Di oggi Ancora continuiamo A vedere le testate Nazionali Vediamo la prima pagina Del tempo Il Vaticano Si arrende agli Orlandi Aperta un'indagine Su Emanuela Dopo una lettera Anonima Che pare scritta Da Dan Brown Secondo la soffiata Il corpo della ragazza Scomparsa Nel 1983 Pensate un po' Sarebbe in una tomba Tedesca E ancora Vediamo quante Piste farlocche Satanisti 007 Ossa 36 anni Di buchi Nell'acqua E nella parte centrale Della pagina Ieri festa Per il 160esimo Compleanno Menoreati Nel 2018 E infatti Parliamo della polizia Sempre più donne capo La svolta rosa Di Franco Gabrielli E intanto Nella parte bassa Della pagina La band romana Al palazzetto Aspettando il circo massimo Parliamo del pop In paradiso Con i De giornalisti La musica in primo piano Proprio da questa testata Perché ovviamente Rappresenta Qualcosa di essenziale Innovativo E soprattutto Che fa bene Ancora vediamo Le altre notizie In primo piano Ci spostiamo Sulla Repubblica E vediamo Che la parte alta Del giornale È tutta dedicata Al buco nero La luce In quel pozzo La prima fotografia Di un buco nero Infatti siamo sopraffatti Più avanti Proprio nei particolari E nella parte centrale Della pagina L'argomento portante È quello che riguarda Italia Libia Il negoziato segreto Così titola appunto Questo quotidiano E infatti Lunedì l'incontro Fra il premier E gli emissari Di Haftar Alla ricerca Di una tregua Alle porte di Tripoli Ormai è guerra Migliaia di civili In fuga Presi molti Soldati Ragazzini E intanto Conte Respingo L'austerity Che vuole L'Unione Europea Sia alla flat tax Ma sarà progressivo Ancora dispute Per quanto riguarda Il governo E nella parte bassa Della pagina Invece Vediamo Montezemolo Cinque anni dopo Che commenta In seguito A un'intervista Iola Ferrari E Marchionne E intanto Vediamo Per ciò che riguarda Lo sport L'Ajax fa soffrire La Juventus Ma il solito Ronaldo Salva la partita E con un pareggio Appunto Si garantisce Questa serata E ancora vediamo Le altre notizie In primo piano Il messaggero Provi di flat tax Scontro sull'Ilva Nel Def Il taglio Delle tasse Per le famiglie Saltano le aliquote Salvini Di Maio Lite con Tri Altola del tesoro Senza risorse Aumenterà l'imposta Sui consumi Crescita Ferma Allo 0,2 Per cento E l'allarme del MEF Manovra bis Vicina Operazione Verità Cosponda Del Colle E intanto L'inchiesta Mitinfranti La Svezia E le porte Aperte ai migranti Così il modello Naufraga Naufraga in tanti Ghetti E ancora Vediamo Gli strani Divorzi E proprio Ieri sera Una notizia Della Brexit Con proroga La MEI Infatti ottiene Un sì Dall'Europa E ovviamente Gli accordi Per l'uscita Della Brexit Slittano Al prossimo Autunno Ancora vediamo Le altre notizie Il Sud Dimenticato La ricetta Che non c'è Nel paese Così detto Che galleggia E ancora Vediamo Nella parte Centrale Della pagina Netanyahu Eganze Cantano Vittoria Israele Testa a testa Ma il premier In vantaggio Sull'ex militare E intanto Marino E le note spese Assolto in Cassazione Dice Ma la ferita Rimane Il fatto Non sussiste L'ex Sindaco Commosso Il legale Ricordate Le accuse Di De Vito Erraggi E questo E appunto Quello Che abbiamo Già Evidenziato In Molte Discussioni E per quanto riguarda Le notizie In primo piano Dalle testate Nazionali Facciamo una piccola Pausa Ma ritorniamo Subito dopo Quindi Non andate via Che Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.